Eccolo, eccolo, io sono barbuto ma non ho la barba, benvenuti in questo nuovo video, anche oggi siamo tornati con i life hacks tiktok super, i tiktok life hacks, i lives di tiktok, milionesimo, bilionesimo, trilionesimo episodio Fammi appoggiare qua, oggi ci troviamo qua nel laboratorio di barbuto, mi raccomando lasciate già un bel like, allora i trucchi di oggi, i trucchetti di oggi, i life hacks di oggi sono incredibili raga, davvero davvero utili, davvero davvero fighi, davvero davvero belli ok? Mi sono impegnato tantissimo oggi per portarvi dei life hacks bellissimi Se sei nuovo qua su questo canale commenta con hashtag nuovo iscritto che cercherò di metterti il cuoricino e darti il benvenuto personalmente, siamo quasi 500.000 E mi raccomando in descrizione nel primo commento ragazzi vi lascio il link per le mascherine e tutto il nuovo merch hashtag petacolo Quindi mi raccomando andate ad acquistarlo, se volete un pezzo di barbuto sempre piaciuto, così anche voi siete sempre piaciuti Non perdiamoci troppo in chiacchiere, allora il primo life hacks di oggi che vi farò vedere è un life hacks trucchetto super tic 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 t qualsiasi cosa basta che la sapete disegnare e verrà la forma ora vi faccio vedere come fare un po disegnato il cuore non prendetemi in giro non provate a prendermi in giro nei commenti per tutto un cuore che assomiglia più a un culo che a un cuore ora lo ritagliamo ok ragazzo ancora peggio non provate io lo giro non provate a prendermi in giro ve lo dico allora mettiamo un coso per spruzzare all'interno della bottiglia però si abita anche incredibile ci mettiamo in bagno ok allora mettiamo questo cartone qua sullo specchio mi raccomando mettiamolo bene e spruzziamo feli perché non spruzzo riproviamo mettiamo il cartone qui ok state attenti che tocchi bene perché se l'acqua va fuori non viene da forma del cuore ok tiriamo via veloce telefono alla mano flash attivo spegniamo le luci mettiamo un filtro questo qua dovrebbe andare bene e scattiamo alla luminosità cliccate qui e fate giù 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 ok poi fate così flash ci sarebbe più buio ok abbassate più che potete la luminosità della foto questo è il risultato ragazzi guardate che bella questo se riuscite a prendere il centro bene il cuore uscirà il cuore ecco qua guardate che bellezza ragazzi incredibile poi ve la metto anche di fianco così la vedete meglio allora ragazzi sono appena tornato at home perché ho andato a comprare questi qua che ci serviranno nel prossimo life hacks tiktok super millionaires ma prima di farlo voglio annunciarvelo così perché nel mentre acquistavo quello mi sono imbattuto in questo ragazzi voi non sapete di cosa è in grado questo robo ragazzi babbuto è sempre piaciuto possiamo cambiare voce attenzione aspetti sto volando nel prossimo tiktok ragazzi avremo bisogno aspettate avremo bisogno delle salviette ma non delle semplici salviette avremo bisogno di salviette con questa roba qua lo vedete questo che si apre e si chiude ok e poi avremo bisogno ragazzi di patatine possibilmente un pacchetto chiuso di patatine tipo queste ragazzi ragazzi mi sto divertendo troppo l'ho preso per le dirette che farò su twitch perché ormai sapete tutti che le dirette che faccio su twitch sono super ignoranti e cosa più di questo può renderle ancora più ignoranti niente quindi noi ci vediamo ovviamente stasera perché tutte le sere alle 21 sono in diretta su twitch se non ce l'avete potete iscrivervi se non ce l'avete non volete iscrivervi potete guardarle lo stesso le dirette per corretto dei commenti nello scorso video che mi dicevano così vi lascio il link nella descrizione al primo commento mi raccomando seguiteci perché siamo quasi a 10.000 quindi venite a seguirmi perché ci divertiremo tantissimo comunque io vorrei far partire questo commento nei commenti sotto questo video ovvero ragazzi non è più non so chi lo guardava da piccolo ma non è più il laboratorio di dexter ma il laboratorio di barbuto cioè ragazzi con queste life hacks ragazzi stiamo scoprendo tantissime di quelle cose sia utili che inutili però incredibili pazzesche questo secondo me è uno dei più belli e dei più utili quindi allora prendiamo il nostro pacco di patatine e lo mettiamo giù perché ci serve per prima questo stacchiamo ragazzi il coperchio per le nostre salviette lo stacchiamo proprio ok tanto qua rimane chiuso e di conseguenza le salviette non si buttano perché sono contro lo spreco di qualsiasi cosa prendiamo le nostre patatine sapete cosa facciamo ce lo attacchiamo qui in mezzo stacch e voi dite si ok adesso e adesso viene la parte bella ragazzi perché vedete noi aprendolo abbiamo questa parte qui ok che è chiusa però andando da ritagliare poi avremo il coperchio aprendo e chiudendo prendiamo le nostre patatine incredibile ecco qua facciamo un taglionetto mmm che profumo di patatine ecco qua vabbè io a tagliare ragazzi sono una capra ecco qui non è perfetto il ritaglio però sono sicuro che potete far meglio di me qua chiudiamo e qua apriamo e qui ci sono le nostre patatine buon appetito allora direi che questo life hacks ha funzionato alla grande mi raccomando se voi riproducete i life hacks che vi faccio vedere io su youtube non so li fate su tiktok li fate su instagram mi raccomando mandatemi perché voglio vedere il risultato o se li pubblicate proprio taggatemi perché li voglio vedere fatemi sapere se questi trucchetti sono utili a qualcosa anche allora invece il terzo life hacks non è una cosa che può diventare utile per la nostra vita però è un trucchettino che ho visto fare su tiktok varie varie volte però nessuno mi ha mai dato la spiegazione quindi per capire come si facesse perché tutti saltavano la parte iniziale facciamo vedere solo il risultato ho dovuto aspettare ho dovuto provare ho dovuto testare quindi io ho detto magari c'è qualcun altro che non capisce un po' come me c'è bisogno di qualcuno che glielo spieghi quindi oggi sono qui per spiegarvelo allora per questo tiktok life hacks super viral trucchetto tra bocchino ci serve un asciugamano dell'acqua e del sapone molto semplice quindi andiamo in bagno allora eccoci qua qua abbiamo il nostro asciugamano stendiamo sul lavandino allora lo dovete stendere in modo tale che venga solo da una parte cioè non dovete bagnare tutto l'asciugamano quindi fate così veloce ok abbiamo lì un pezzo un pezzo bagnato di asciugamano ci mettiamo su il sapone facciamo così bene ok e ora vediamo ora vediamo se funziona ragazzi lo prendete dall'altra parte dove non avete messo il sapone e soffiate ok forse va più sapone più sapone ragazzi ok riproviamo oddio mi ha dato l'odore di sapone di traverso perché dovete sapere che abbiamo messo un goccino d'alcol nel sapone per disfettare meglio le mani cioè tipo ho capito a munchina a casalinga ogni tanto infatti me lo bevo ovviamente scherzo allora a parte gli scherzi questo life hacks pure ha funzionato quindi bang barbuto oggi incredibile li fa funzionare tutti e questo niente era solo semplicemente divertente se qualcuno magari ci vuole fare un tiktok o una storia vuole fare qualcosa di particolare può farlo perché è innovativo ovviamente non fate vedere come lo fate fate vedere anche voi solo il risultato quindi quando soffiate in asciugamano avete visto incredibile cosa si è creato e niente passiamo nel prossimo life hacks tiktok tra bocchino by barbuto sempre piaciuto ok allora per il prossimo life hacks by barbuto sempre piaciuto avremo bisogno di un limone e uno spruzzino quello che abbiamo usato prima per il life hacks quello allo specchio quindi eccomi qua allora il limone ce l'abbiamo allora dove è nascosto ok qua abbiamo uno spruzzino ci servirà solo la parte sopra non so come li chiamate voi comunque ok quelli che hanno questo qua questo coso qua dobbiamo ritagliare io ho preso uno già vuoto per evitare di sprecare detersivo dobbiamo tagliare questo robo qui quindi forbice lo tagliamo proprio dall'interno se riuscite io non ci sto riuscendo oddio mi sto schizzando comunque ok lasciate solo un pezzettino lo sciacquiamo ragazzi mi raccomando lo sto sciacquando perché sennò c'è il detersivo dentro mi raccomando sciacquatelo bene magari usatelo un po così anche il detersivo che c'è dentro lo spruzzino va fuori ok dovrebbe essere pulito ora arriva la parte divertente perché non so se funziona realmente cioè dovrebbe funzionare ma è difficile dobbiamo riuscire ad avvitare questo dentro il limone quindi io farei questo farei un buchino ok fatto un buchino in modo tale che ci inseriamo la cannuccia quella che abbiamo ritagliato e poi cerchiamo di stringere tantissimo è difficile ragazzi ve lo dico ecco qua allora stringiamo bene ora abbiamo il nostro limone e il nostro spruzzino vediamo se spruzza spruzza non si vede ah si vede si vede spruzza è limone oh oddio quindi questo è l'ifax incredibile mamma vieni a vedere cosa ti ho creato vieni allora qua abbiamo uno spruzzino di limone no 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 per condire eventualmente le cose poi guarda qua questo qua è più bello qua abbiamo delle patatine eh lo apri e lo chiudi è davvero? è davvero si credibile eh da puto le dite i barbuti è sempre piaciuto spruzza limone eh devi inserirlo bene eh vedi per condire ma per questo l'ifax invece abbiamo bisogno di pile quindi eccole qua le dobbiamo disporre tutte in piedi ora ecco le nostre pile messe in piedi allora in realtà quello che vi farò vedere non è l'unico ci sono tutti questi tiktok dove mettono le pile in piedi tutte attaccate appoggiando il telefono si carica oddio nooo è ancora tutto intero ragazzi allora riposizioniamo tutte le pile continuiamo a cadere ecco qua ce la faremo? ce la faremo? ok allora magari era colpa della cover magari era colpa perchè c'è la cover proviamo a metterlo senza cover perchè perchè funziona tutti a me no? perchè funziona tutti a me no? questo l'ifax non funziona ve lo dico io perchè non funziona oh mamma mia oggi continua a cadermi la fotocamera cioè continua a rischiare di far cadere la fotocamera allora mettiamoci qua sul balcone che c'è una bella luce ve lo dico io perchè non funziona semplicemente perchè non si può caricare il telefono con le pile uno e seconda cosa è perchè tutti quelli che vi fanno vedere questi tiktok semplicemente attaccano il telefono al cavo quello di ricarica fanno la registrazione schermo e poi riproducono il video mentre mettono il telefono sulle pile eh? dal butto c'è arrivato niente raga allora questi l'ifax questo episodio dell'ifax super tiktok virali più visti si conclude qua fatemi sapere se avete trovato interessanti quelli di oggi e mi raccomando commentato scrivetemi su instagram con altri l'ifax che magari potrei provare a vedere se funzionano o meno magari quelli che vedete su tiktok me li linkate noi ci vediamo stasera con una diretta su twitch alle ore 21 e poi ci vediamo venerdì perchè ogni mercoledì ogni venerdì ogni domenica alle 18 esce qua un video su youtube barbuto è il capeone ciao belli